Non c'è un attimo di tregua per l'eccellenza che torna in campo domani, mercoledì, per il primo turno infrasettimanale. Per il Terranuova Traiana, seconda in classifica, è trasferta alla Rufina. La squadra di Beccattini, dopo aver battuto la Valdaccio Bruni di Anghiari, conta di sfruttare questo ottimo momento di forza. Dopo uno strano avvio di campionato, dall'ottava giornata i biancorossi, che hanno un organico di tutto rispetto, hanno iniziato a macinare punti e adesso sperano che il Siena capolista possa perdere per strada qualche punto. In presa quasi impossibile, visti i 12 punti di vantaggio dei bianconeri. Torna allo stadio dei Pini il Foiano, che reduce dalla vittoria di Borgo San Lorenzo. La squadra Amaranto è al quinto posto e conta di migliorare la posizione in graduatoria. Chi ha accusato la seconda sconfitta consecutiva è stata la Castiglionese, battuta a Brozzi dal Firenze Ovest. Per i Viola urge riscatto, mentre la Baldaccio Bruni-Anghiari, assorbita la botta di Terranuova, ha l'occasione del riscatto con l'asta Taverne d'Arbia, matricola comunque da non sottovalutare. Grazie a tutti.